Bassano, il suo ponte e le sue prelibatezze sono stati i protagonisti ieri della prima prova in esterna della nuova edizione di Masterchef Italia, che ha visto i concorrenti affrontarsi sul ponte degli Alpini a colpi di portate da servire a commensali e a dir poco esigenti, gli agricoltori del Consorzio per la tutela dell'asparago di Opini Bassano. Proprio il bianco turione è stato infatti l'ingrediente principe della sfida che gli aspiranti Masterchef hanno affrontato grazie all'aiuto di un bassanese doc, Antonio Lorenzon, che ha assaporato l'emozione di tornare protagonista del celebre cooking show vinto due anni fa. È emozionante perché comunque è la mia città e ci tenevo appunto a rappresentarla come doveva essere rappresentata, perché ho fatto quello che potevo per portare qui Masterchef, sono due anni di lavoro, ci abbiamo lavorato due anni insieme all'assessore, al sindaco, al presidente dell'asparago appunto, insomma con tantissime persone per portare appunto Masterchef qui e ci sono riuscito. Protagonisti assoluti della puntata, i prodotti del territorio, dal baccalà ai bigoli fino al re assoluto della cucina bassanese, l'asparago, che i concorrenti hanno cucinato seguendo le preziosi indicazioni di Antonio. Quando mi hanno chiesto ma come si deve trattare l'asparago, glielo avevo spiegato molto bene, no, sono stati bravi, sono stati veramente bravi e hanno fatto di gran bei piatti. E a proposito di piatti, in molti a Bassano e non solo, si chiedono quando potranno finalmente assaggiare le creazioni di Mr. Masterchef e se Antonio intenda prima o poi aprire un ristorante. Eh, questa è una domanda che mi faccio spesso anch'io. Potrebbe essere, diciamo ci saranno delle novità sicuramente per febbraio-marzo, qualcosa uscirà. E chissà che protagonista ancora una volta non sia sempre Bassano. Grazie.